E' morto XXXTentacion. Il giovane rapper statunitense sarebbe stato colpito da un'arma da fuoco mentre si trovava a Deerfield Beach, Miami. All'anagrafe Jasadway Nonfroia, aveva compiuto 20 anni lo scorso 23 gennaio. Uno dei suoi maggiori successi è stato la canzone Look at Me. A dare la notizia ufficiale Brawarsheriff, sul canale Twitter The Adult Male That Was Taken To The Hospital Has Been Pronounced Dead, un uomo è stato trasportato all'ospedale morto. I suoi post social sono stati cancellati, e sul canale Instagram, rimane l'ultima foto. Love is war. E la foto di lui con la testa in giù. Secondo quanto riferito dal sito TMZ, il rapper stava uscendo da un rivenditore di motociclette nel sud della Florida e un uomo armato ha raggiunto il suo veicolo e gli ha sparato. Grazie. 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 Grazie.